Dalle indiscrezioni che trapelano in queste ore su alcuni siti di gossip e pagina Instagram pare che nella prossima puntata vedremo una Gemma Galgani bagnata. Già, pare proprio che Tina non sia riuscita a trattenersi come già era successo in passato. L'opinionista avrebbe lanciato un secchio pieno d'acqua sulla dama, un gesto che aveva già compiuto, attirandosi critiche e disapprovazione da parte del web. Ma questo non è bastato a far pentire del gesto a Tina. Gesti che si sommano ad altri di scherno, come quello della mummia, un manichino che portava in studio per deridere e paragonare a Gemma. Insomma, la prossima puntata sarà spettacolare. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie. 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 Grazie.